Eccoci qua, eccoci qua con questi sei ragazzi! TARGATI MODENA! Allora, ho sentito un vostro amico che ha detto che il festeggiato si chiama Dario, giusto? Oh, fantastico, vicino al microfono, allora Dario, con chi ti sposi? Con Francesca! Quando? 20 settembre 2014! E vieni da? Vodena! Vai! Allora Dario, raccontami un po' di te vicino al microfono, cosa fai di bello nella vita? Faccio commerciante edile! Commerciante di cosa? Materiali edili! Scusa, commerciante di? Materiali edili! Materiali edili, wow! Quindi tutte le case le costruisci un po' te? No, io le faccio costruire! Ah, ho capito! Io ho dei materiali... Cioè, come dire? Fantastico! Ottimi, ottimi! Ottimi! Vado vecchio, vado vecchio! Invece, nel tempo libero, quando non vende i materiali edili, cosa ti piace fare? Che si può dire? Che si può dire? Che si può dire? Vado in bollo, o sennò vado in snow! Eh, vai in snow! Fantastico! Con lo snowboard... Dimmi? E' lo snow che va con lui! Ti piace andare con lo snow? Chi senti andare in snow? Ah, fantastico! Con lo snowboard! Allora, Dario, che canzone vuoi cantare? Vai, Cogliani 883! Ringrazio i miei amici! Fantastico, gli amici di Modena! Stessa storia, stesso! Stesso posto, stesso bar! Stessa gente che viene dentro, consuma, poi va! Non lo so! Che faccio qui! Esco un po', e vedo gli ali dell'auto che mi guardano insieme, ma non chiedermi chi cerchiamo noi! Gli anni d'oro che cadea, gli anni dei piedi e di rarlar, gli anni delle immense compagnie, gli anni motorino sempre in due, gli anni di che belli erano i fiss, gli anni di le rogers come gis, gli anni di qualsiasi cosa fai, gli anni di tranquillo, siamo qui noi! Siamo qui noi! Oh, Dario, che si è marzo l'argo! Dai, dai, dai! Nella storia, stessa storia, stesso posto, stesso bar! Una coppia che conosco, saprà la vita, come va! Salutano! Salutano! Così io, vedo le fede e le dita di due, che poi forciuna non vengono se io qualche anno fa, gli anni d'oro del grande real, gli anni di epidenze vivano mai! Vai, Modena! Gli anni di queste compagnie, gli anni motorino sempre in due, gli anni di che belli erano i fiss, gli anni di rogers come gis, gli anni di qualsiasi cosa fai, gli anni di tranquillo, siamo qui noi! Siamo qui noi! E' la Modena, Modena, venga dura! La storia, stesso posto, stesso bar, sta quasi chiudendo, poi me ne andrò a casa mia, solo lei, davanti a me, cosa vuoi? Il tempo passa per tutti, lo sai, e le sole indietro riporterà neppure noi, gli anni d'oro del grande real, gli anni di epidenze dirà al mar, gli anni delle dense compagnie, gli anni motorino sempre in due, gli anni di che belli erano i fiss, gli anni di ero e rogers come gis, Gis! Gli anni di qualsiasi cosa fai, gli anni del Brasillo siamo qui noi, siamo qui noi! Dario! 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 Dario, prima c'era un pezzo nella canzone degli anni 83, quella che i tuoi amici ti hanno indicato, la fede, giusto? E sai com'è il detto? Te lo dico, così te lo ricorderai per tutta la vita! Sei pronto? Con due anelli tra le dita ti sei legato tutta la vita! E facciamo un grande applauso Dario Modena! Who is it? Tu총 the host, man grid statistici sui si tiensate con i ch Ethica? Sopr Giant ! Ourzes! Hovi, quelloI Haw whoata! Grazie a tutti.